Nel prossimo numero della rubrica presupposti del mensile Dr. Ross parleremo del disegno di legge sulle professioni, cosiddetto DDL professioni, che è in corso di discussione in questi giorni in Parlamento e vedrà una prossima approvazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate dalla discussione parlamentare. Il disegno di legge si occupa di normare o meglio chiarire alcuni aspetti critici del rapporto professionista-cliente e nel settore medico-dontoiatico nell'ambito del rapporto medico-paziente. Soprattutto questo disegno di legge è volto a tutelare tutte le posizioni di debolezza in cui il professionista si trova di fronte magari a grandi aziende. Per il settore odontoiatico il rapporto con il paziente è forse più lineare, salvo l'ambito dei tempi di pagamento, ma le novità legislative riguardano anche i rapporti tra collaboratori e professionista titolare dello studio o studio associato o centro dentale. Quindi sarà importante aggiornarsi su queste dinamiche contrattuali per quanto non sia così frequente nel settore dentale avere i rapporti ben definiti e contrattualizzati, però è opportuno conoscere quali sono le limitazioni o le normative che vanno seguite in questi ambiti di accordi. Questo è un primo settore di novità, il secondo riguarda quello forse più così interessante delle agevolazioni fiscali o meglio delle correzioni di strutture vere e proprie che aveva il nostro sistema fiscale per specifiche per i professionisti e quindi dovrebbero venire meno e ancora una serie di agevolazioni in tema di malattia, maternità e congedo parentale che sicuramente non possono che fare piacere al mondo dei professionisti. Infine abbiamo ancora delle indicazioni generali di tutela del settore professionale e della flessibilità del lavoro degli stessi professionisti che sicuramente possono essere raccolti come un segnale positivo dell'attenzione del mondo politico a questa categoria di lavoratori, di imprese, anche se in forma appunto di studi associati, che negli ultimi anni erano state penalizzate su più fronti, viste forse in modo anche ingiustificato molto spesso come espressioni di lobby che non volevano cambiare o resistevano agli aggiornamenti, cosa che evidentemente non è. Quindi segnali positivi a cui approfondimento appunto rimando per l'articolo in questione. Quindi vi auguro buona lettura e arrivederci.